benvenuti su soluzioni pc oggi andremo a vedere come fare un test completo dell'audio sia in entrata che in uscita quindi altoparlanti e microfono questa cosa è molto utile in primis per capire se i nostri dispositivi sono rotti ma poi ci può aiutare anche a risolvere dei problemi dentro windows qualora non dovessero funzionare correttamente l'audio in uscita o in ingresso bene andiamo subito a vedere come fare aprendo le impostazioni quindi andiamo su start cerchiamo le impostazioni se non le vedete subito scrivete qui sulla barra di ricerca impostazioni eccole qui le apriamo andiamo su sistema da qui la seconda voce sarà audio una volta entrati dentro questa schermata avremo due zone una per l'output quindi l'audio in uscita e una per l'input che sono i microfoni e l'audio in ingresso nella zona dell'output possiamo vedere che ci fa scegliere quali sono gli altoparlanti da cui riprodurre il suono nel mio caso ne ho solamente uno ma potrei sceglierne altri qui è il primo punto che dovremmo andare a guardare se abbiamo dei problemi audio perché potrebbe essere selezionato e questa cosa vale anche per il microfono una fonte di riproduzione audio non corretta stessa cosa anche per il microfono una fonte di uscita di ingresso audio scusate non corretta una volta che abbiamo verificato che il nostro altoparlante è quello corretto per capire se questo funziona possiamo andare all'interno cliccandoci sopra in questa schermata oltre a vari volumi e altre cose avremo il tasto test questo farà un test rapido per vedere se è tutto funzionante adesso proverò a cliccare e vediamo che cosa succede io adesso non so se anche voi riuscite a percepirlo ma ha fatto un campanello sia a destra che a sinistra quindi con un audio stereo questo ci aiuta anche a capire se uno dei due altoparlanti è rotto oppure no se si sentono con la medesima intensità vuol dire che va tutto bene per fare il test del microfono torniamo indietro alla schermata audio e facciamo la stessa cosa per il microfono io in questo caso ho due microfoni perché sul mio portatile attacco il microfono esterno che è il tonor e il portatile ha anch'esso un microfono interno quindi clicchiamo sul microfono che sto utilizzando e vediamo di provare a fare un test prova 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 test clicchiamo su interrompi il test e qui a fianco comparirà il risultato se il risultato non è nullo quindi non c'è scritto che non ha rivelato nulla vuol dire che il microfono funziona poi quanto volume in ingresso potete regolarlo dalla barra sovrastante in modo tale da avere più o meno quantità di audio sensibilità scusate dal microfono detto questo abbiamo finito questo era un modo semplice per fare un test sugli altoparlanti sul microfono se avete problemi o dubbi potete scrivermi nei commenti lasciate un like se vi ho risolto un problema e iscrivetevi per avere altre soluzioni pc vi lascio un saluto vi do appuntamento ad un prossimo video ciao 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 ciao